Grazie mille al professor Fabri, anche alla fondazione Marco Biaggi per questo invito e questa opportunità. Visto che è stato richiamato, solo un piccolo chiarimento sulla filiazione. La mia filiazione è Inail e rappresento tutta quella parte di ricerca che sono le funzioni che sono state. Stamattina ho sentito uno dei relatori che diceva che l'ISPR non è scomparso, tutte le funzioni sono preservate e si è in corso una riorganizzazione per integrarle verso il progetto della creazione del polo integrato della prevenzione nei luoghi di lavoro. La ricerca e tutte le conferenze dell'ISPR continueranno in Inail. In questo, diciamo, uno dei temi, anche quello che si sente sempre dire quando si parla di rischi psicosociali e organizzativi, si sente sempre dire che è un problema emergente. Abbiamo sentito anche i referimenti dottrinali in questa mattina che spesso poi richiamavano ancora come un qualcosa di base su cui costruire poi la gestione di un rischio come si è fatto in passato con gli altri rischi. In realtà poi così, come abbiamo anche sentito dalle riflessioni storiografiche stimolanti di questa mattina del professor Fabri, non è poi così nuovo. Questo poster spagnolo del 34 che parlava di tutta una serie di azioni e di infrastrutture che il governo spagnolo offriva sulla salute mentale. E visto che stamattina, questo è un just in time, nella pausa ho aggiornato la mia presentazione con questa slide sul maestro, e quindi visto che è stato richiamato questa mattina, solo un piccolo accenno in più, perché Bernardino Ramazzini, in quella miniera inesauribile di intuizioni che è il De Morbis Artificum Triadiatriba, nel capitolo sulle malattie correlate ai lavori sedentari, richiamava anche una riflessione importante di quel rapporto stretto che c'è tra mente e corpo. E anche quando la mente non c'è benessere mentale, anche il corpo languisce. Questa, diciamo, era proprio anche la traduzione di questo passaggio che si riagganciava delle dissertazioni di Platone. Quindi il rapporto stretto del benessere mentale è richiamato a radici molto molto antiche. Ma quello che oggi è cambiato, e che anche è cambiato rispetto anche alle intuizioni di Seil, e tutto quello che stamattina abbiamo venuto, è diventato un problema di gestione su una piattaforma, che è quella complessiva, che si è anche rivoluzionata, come abbiamo sentito prima, con vent'anni abbondanti ormai di direttiva europea 391, che ci ha permesso di creare una serie di infrastrutture, di competenze, di un piccolo esercito, di persone che si sono formate, che hanno acquistato competenza da medico competente, da responsabili del servizio prevenzione e protezione, da datori di lavoro stessi, che anche loro vanno in percorsi di obblighi di aggiornamento e formativi, dagli RLS stessi, cioè tutta una serie di figure che acquistano su come gestire in maniera partecipata i rischi, e quindi come gestire questo tipo di rischi. Beh, come è diventato un problema di affrontarlo, come un rischio contro gli altri, nasce, abbiamo sentito anche stamattina, che è un problema anche di, innanzitutto, di costi. I costi si possono stimare in tante maniere, ma prendendo il direttore dell'Agenzia Europea della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro di Bilbao, che ci ricordava che è stimato in oltre 20 miliardi di euro l'anno i costi diretti e indiretti, ma soprattutto ha un impatto diretto, è una delle principali cause delle assenze da lavoro. E guardate che nei paesi dove il monitoraggio dell'indicatore assenza da lavoro, come per esempio i paesi scandinavi, questo è un punto di estrema attenzione, soprattutto dopo il boom della new economy, delle dot com negli anni 90, si è visto poi, rispetto a una serie di soluzioni, un aumento enorme in Svezia delle assenze da lavoro. Ed è questo uno dei motivi che ha portato anche la parte più resistente a queste tematiche, ad affrontarlo come un problema reale, che non era più un argomento di un gruppo ristretto di ricercatori e accademico, ma un reale problema da gestire e soprattutto gestibile. Questo poi si è associato anche a un aumento dell'indicatore che non è solo l'assenza, perché spesso anche nel nostro paese abbiamo sentito una grande attenzione sul combattere e diminuire l'indicatore dell'assenteismo e delle assenze da lavoro. Ma una cattiva organizzazione può anche avere l'indicatore che è l'opposto, ma altrettanto costoso, che è quello del presenteismo, cioè quell'essere presenti al lavoro, ma magari sotto in condizioni di ristrutturazione o in condizioni di precarietà di lavoro, ma non essere produttivi, essere ammalati e continuare a andare al lavoro. I costi del presenteismo a volte sono anche più costosi dell'assenza da lavoro, quindi l'indicatore solo può essere anche più costoso dello stesso. Quindi tutti impattano sull'indebolimento, la diminuzione o spirito di collaborazione, il decremento della performance, anche tutto l'impatto sull'atmosfera, la qualità, le immagini, i conflitti interpersonali. E tutto questo ovviamente ha un costo. Dall'altro la comunità scientifica è andata avanti, sono aumentati in maniera esponenziale i lavori che sono in qualche maniera correlati ai rischi psicosociali, allo stress al lavoro correlato, alla percezione dello stress, alla gestione dello stress, ai fattori di rischio psicosociale. Se andiamo a vedere, da poche unità nella seconda metà degli anni 70 ormai sono numerosissimi e increscente, dandoci comunque una serie di offerte. Ma è anche uscita dalla comunità strettamente di chi si occupava di psicologia del lavoro, ed è entrata anche in quella dell'epidemiologia, dell'epidemiologia delle malattie, cioè quel monitoraggio delle malattie, soprattutto in quei paesi dove gli indicatori ci permettono di avere studi seri del rapporto. Ad esempio, questi lavori, tutti pubblicati su riviste estremamente importanti, tra l'ANZET o l'European Journal of Epidemiology, hanno correlato un aumento della mortalità cardiovascolare che è un aumento di 2,5 volte il rischio relativo con aumenti concreti e eccessivi di carico di lavoro senza controllo o nel secondo anno successivi a grande ristrutturazioni un aumento di mortalità cardiovascolare fino a 5 volte che poi si normalizzava a partire dal quarto anno. Oltre poi a correlazioni sull'uso di psicofarmaci nelle classi di età tra 20 e 30 anni aumentate di 5 volte, soprattutto in situazioni al crescere della precarietà del rapporto di lavoro. Tutto questo ha portato ad ampliare una convergenza tra il reale costo, l'importanza di investire in questo, del costo sociale e delle evidenze scientifiche. Nel dibattito che c'è stato scientifico all'inizio di questo decennio, degli anni 2000, nel 2003, Lennar Levi, che è stato forse uno dei più grandi prionieri, attualmente è membro del Parlamento svedese, diceva che gli strumenti ormai dopo 30 anni di ricerca c'erano, era un problema di agire. Ma quello che abbiamo osservato negli anni, soprattutto 90, inizio degli anni 2000, è una grande divergenza di posizione e di chiusura tra le parti sociali tra loro, nei tavoli decisionali europei e internazionali. Una grande chiusura e divergenza che si è andata mano a mano avvicinando, perché si è capito da un lato che aveva un costo ed era un buon investimento investire in un buon organizzazione del lavoro, e dall'altro di capire che al di là di determinate chiusure, era importante lavorare insieme su come costruire un percorso di gestione concreta e sostenibile in un sistema reale e aziendale. Ed ecco che si è passata la policy, la strategia europea 2002-2006 ha introdotto un specifico richiamo a questo, dicendo che le varie stanze del dialogo sociale potranno occuparsi in modo utile, in particolare sullo stress, in cui aspetto multiforme giustifica pienamente iniziative di questo gene. E ne è nato un percorso che si è concluso il 27 maggio del 2004, col termine contrattazione, l'8 ottobre 2004 è stato varato l'accordo quadro europeo sullo stress, che è quello che poi ci troviamo concretamente ad implementare in tutti i paesi. Quindi con duplice obiettivo di migliorare la consapevolezza, la comprensione, lo stress da parte dei datori dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ma anche di offrire ai datori lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e prevenire o gestire i problemi da stress da lavoro. Questa è una mappatura fatta direttamente dalla Commissione europea di come questo è stato applicato, questo è aggiornato al 18 giugno 2008, quando è stata fatta l'ultima mappatura della Commissione europea. Vedete che i vari paesi l'hanno recepito in varie maniere, alcuni con accordi, con contrattazione collettiva, altri con strumenti legislativi vero e proprio. Da noi si è scelto quello di adottare uno strumento legislativo e quindi nella maniera più chiara che il decreto legislativo 81 che fa un richiamo specifico. Da quando è stato varato questo ovviamente ne è nata un'enorme offerta di soluzioni pratiche fatta da società scientifiche, da enti pubblici di ricerca, da enti di unificazione, normativi, da regioni in forma normativa e non, da singole entità private, da associazioni e ordini professionali, da rispolverare i vecchi strumenti, anche magari confondendo quelli che sono strumenti psicometrici con metodologie di gestione del rischio e proponendo a alcune vase anche delle soluzioni un po' naif, pass partù, che magari ci arrivavano via email, che con 19,90 euro si risolvevano tutti i problemi acquisendo un CD-ROM che si poteva avere tranquillamente per posta. Giustamente il legislatore richiamato in causa ha rimandato alla commissione consultiva permanente come affrontare da un punto di vista tecnico, ed è proprio di questi giorni, il dibattito della chiusura di questo percorso per offrire delle indicazioni metodologiche che stanno andando verso il porto di arrivo in acque abbastanza calme. E questo creerà poi la possibilità di dare a questo articolo, quello della valutazione del rischio e a questo specifico richiamo sullo stress e lavoro correlato, un'implementazione. Cioè da riflettere quali criteri adottare su questo. Innanzitutto è la sostenibilità dell'approccio. Non è pensabile proporre strumenti, metodologie che siano non applicabili in quella che è la realtà produttiva e soprattutto quello che è la filosofia dell'applicazione della 391 e che è quella del sistema del decreto legislativo 81. cioè quelle expertise, quella massa critica, quella infrastruttura che si è creata e costruita in oltre 15 anni dal decreto legislativo 626 da noi, deve essere messa in grado di sostenere anche nel nostro tessuto sociale e produttivo fatto soprattutto di aziende, di piccole e medie imprese, di aziende sotto i 10 dipendenti per lo più. Il ruolo centrale quindi delle figure chiave della prevenzione, dare quindi delle piattaforme che siano validate, dove per validate noi intendiamo che siano riproducibili e siano, diano degli strumenti, che siano sperimentati, che diano dei risultati gestibili, attendibili. L'altro è l'approccio globale alla valutazione e gestione del rischio, cioè quella filosofia che parte dall'identificazione di pericolo fino al monitoraggio continuo delle misure correttive e l'adattibilità a diversi settori produttivi. E questo ricade quindi in questa filosofia compressiva che qui ho riassunto in maniera sintetica rispetto a quello che è il sistema del 391. Come istituto, come in ambito ISFA abbiamo cominciato a riflettere dopo il varo dell'accordo, preparandoci poi in quel percorso che poi ha portato e anche confrontandoci con i colleghi europei, Michael che seguirà dopo, abbiamo lavorato molto nella piattaforma di prima, ma soprattutto andando a vedere quei paesi che erano partiti prima di noi, come avevano affrontato questo problema e vedendo anche quali erano stati i successi e gli insuccessi di questo. Quindi siamo andati a vedere alcune metodologie, ci siamo focalizzati soprattutto alcune che rispondevano a quei requisiti che dicevo prima, quindi Belgio, Germania, e il Regno Unito ed Irlanda che per lo più avevano dato delle metodologie che andavano proprio in quella direzione, sono state quelle su cui ci siamo focalizzati. Andando brevemente, perché poi alcune le sentiremo più in dettaglio, nel Regno Unito che diciamo anche partendo un po' da tutto il lavoro dell'Università di Nottingham e tutto il gruppo di Tom Cox e Amanda Griffith, che su questo diciamo anche sono stati anche direi la guida tecnico-scientifica di supporto alla Commissione europea nell'inizio di quei seminari che hanno poi portato alle trattative delle parti sociali, offre dei vantaggi perché offre una valutazione partecipata, una ciclicità e un approccio globale, la possibilità di affiancare lo strumento con altri strumenti, quindi una flessibilità anche rispetto a situazioni specifiche e l'altro di fornire anche uno strumento indicatore di facile applicabilità, ma soprattutto sperimentato in continua crescita perché viene reso e arricchito con nuove casistiche e specifico per determinati settori produttivi e dimensioni aziendali, per comparare le sei dimensioni che va a valutare, dal carico al controllo, al supporto, al ruolo, alle relazioni interpersonali a livello aziendale e ai cambiamenti. Queste sono le sei dimensioni che va a valutare ed è gestibile all'interno dell'azienda dalle figure della prevenzione. Tra gli svantaggi che ha la poco adattibilità del strumento indicatore, quindi passando a soluzioni alternative ma sono state anche validate altre tipologie di supporto per le aziende, per le microimprese. Non spenderò molto sulla parte soprattutto tedesca perché poi ne parlerà più diffusamente anche Michael Hertel, ma come filosofia hanno molta similarità con la differenza però che lo strumento indicatore che utilizza HSI è lasciato tutto molto più flessibile, quindi focalizza più su un supporto complessivo a biodimpianto che di specifici strumenti, rimandando in alcuni casi anche a consulenze esterne in questo senso. Abbiamo anche lavorato in un'ottica anche qui la filosofia di prima e prima EF e poi successivamente prima ETI, ma anche nel monitoraggio di capire quello che succedeva in Europa supportando la Serbia europea che è stata da poco pubblicata, forse non sufficientemente ancora pubblicizzata e diffusa, ci sono tantissime informazioni che peraltro sono basi dati che l'agenzia ha reso disponibile alla comunità scientifica chiunque ne voglia utilizzare per capire qual è la percezione dei datori di lavoro e dei lavoratori in Europa anche sui rischi psicosociali ma in più complessivamente sulle condizioni di lavoro. Anche e mentre prima ETI si svolge come una piattaforma proprio per accrescere competenze e facilitare l'approfondimento e le risorse disponibili per l'aggiornamento proprio di quelle figure della prevenzione di cui parlavamo. In quell'attività anche di benchmarking europeo la nostra convinzione è che il modello HSE rimane il modello di maggior diffusione e direi anche di maggior successo su larga scala anche perché è partito da più tempo ed è stato anche diffuso in altri contesti nazionali e su questo ci siamo focalizzati in una vera e propria validazione e contestualizzazione nel nostro contesto normativo e produttivo. Quindi non una semplice traduzione ma è un lavoro molto lungo e complesso su cui in ISPESL oltre un anno fa si è costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare che è correlato a un gruppo di advisor internazionali prevalentemente correlato con la piattaforma prima e poi con gli esperti HSE che hanno lavorato e continuano a lavorare a questo con un metodo di traduzione validata e back translation del tool e della piattaforma di un pretesting e poi una vera e propria campagna di somministrazione della versione italiana non solo italiana per il vero perché è stata anche valuta noi abbiamo una minoranza linguistica di quasi un milione di persone che è quella dell'alto adige quindi è stato anche tradotto nel tedesco alto tesino. La validazione indicatore dello strumento indicatore la verifica della placabilità e di tutta la piattaforma con il supporto anche dei focus group e siamo proprio in questa fase prima di passare al testing abbiamo siamo anche riusciti grazie anche alla collaborazione un po di tutta la comunità anche della medicina del lavoro ma anche dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro in anche in azienda a raccogliere molte aziende di molti settori produttivi con oltre 6.000 questionari che sono poi la base che ci permette di fare la validazione del tool e di permettere poi concretamente all'azienda di poter confrontare l'indicatore i risultati del strumento indicatore con quelli di aziende di analogo settore produttivo e stiamo facendo anche il linkage della riproducibilità del database madre inglese. Poi abbiamo offerto tutta una serie di prodotti, convegni, iniziative, strumenti anche collegati con l'OMS ma quello che vedete a livello centrale è un po' il frutto che è iniziale di questa valutazione e gestione dello stress lavoro correlato che verrà poi completato da tutto questo lavoro e diventerà una monografia più corposa con tutto anche il sistema di tutorial online. Vorrei anche richiamare un po' degli studi nostri europei un po' il fatto, un po' della percezione, ecco questo forse è quello che allontana anche la bilateralità è la diversa percezione sulle differenze che allontano bisogna più lavorare nell'avvicinare vedete qui gli stakeholder su base tripartitica che facevano parte di questo studio che andava a vedere la percezione di chi siede, alcuni sono qui in sala, di chi siede nei tavoli critici di gestione come quelli del board dell'agenzia europea, della fondazione di Dublino, cioè quelli che poi sono i tecnici delle parti sociali o governativi che supportano dal punto di vista tecnico le decisioni che poi il legislatore sviluppa e la lontananza di alcuni punti di vista è uno dei punti di riflessione sui rischi psicosociali, i datoriali sono come prima priorità, sono molto attenti e consapevoli degli effetti economici, mentre i datoriali, i sindacati e i governativi hanno magari altre priorità più sull'insucurezza del lavoro che comunque rimane la prima priorità in assoluto. Un'altra esperienza su un progetto europeo che volevo portare, che è anche una tematica estremamente importante, la gestione, che è un po' quello che va un po' oltre la gestione della singola azienda, l'importanza delle ristrutturazioni. In questo progetto AIRES, poi seguito da quello in corso, che è AIRES Plus, su cui stiamo lavorando adesso, il cui coordinatore è Thomas Kieselbach, che su questa tematica è un po' sempre stato il pioniere, un po' nel rapporto ristrutturazione e salute, che è una tematica reale e concreta, voi vedete questo preso nel trimestre, uno dei trimestri caldi della crisi, il primo del 2009, vedete il numero e l'impatto di aziende sia al nostro livello nazionale che europeo nell'insieme, insomma ci sono, ha interessato molti, molti, molti lavoratori. Gestire come questo tipo di tematica ovviamente necessita un approccio diverso, quello che viene proposto da questo progetto che sta nella sperimentazione nuova, questo che è chiamato modello a cipolla, dove si lavora su aumentare la positività verso l'attitudine al cambiamento, le competenze e il supporto a livello del business case, ma anche lavorare sugli strumenti sociali e di consapevolezza che vanno dall'individuo all'organizzazione e il supporto della società, che è estremamente importante. Spesso in quel monitoraggio e quegli indicatori non abbiamo altri indicatori, pensiamo solo al nostro sistema progettivo quanto questo ha impatto sull'indotto, sulle piccole e medie imprese che gravitano rispetto e sono dipendenti dall'economicamente, dal mercato del lavoro, di ristrutturazione di grandi aziende, soprattutto in dei settori produttivi, dove la ricollocazione di queste piccole e medie imprese è estremamente complessa, quindi come l'approccio societare su questo? Forse questo esce ovviamente fuori del tema della gestione stress-lavoro correlato e non vuole entrare in questo, ma un punto di riflessione come in epoca di globalizzazione e di crisi investire in queste tematiche deve continuare a essere una priorità, una priorità multidisciplinare. vado a concludere ritornando a come l'approccio della gestione, quindi bisogna sicuramente sviluppare modelli, ancora una volta voglio insistere, compatibili con i sistemi di gestione aziendale, che non vuol dire compromettere la qualità della gestione, ma trovare il giusto equilibrio tra questo e lavorare sulla multidisciplinare competenze. Competenze vuol dire che non si esaurisce, noi chiediamo molto alle aziende, ma io non vedo ancora sufficienti investimenti nelle competenze, per esempio degli organi di vigilanza, dei servizi prevenzionali, che devono avere l'aggiornamento per affrontare queste. Se noi andiamo a vedere delle prescrizioni che abbiamo viste nel primo periodo, dove insomma in assenza che ritornasse in mano la commissione consultiva, appena uscito l'81 c'era da mettersi realmente le mani dei capelli, abbiamo visto organi di vigilanza che prescrivevano il cortisolo urinario in operatori di call center come un sistema di monitoraggio o fare il carasec così da solo. Questo dimostra che c'è bisogno di molto investimenti in risorse e cultura su questo senso. E l'altro lo sviluppo di un sistema quindi prevenzionale di infrastrutture compatibili. Da ultimo bisogna arrivare a quindi quello che è la promozione della cultura complessiva della salute come un asset aziendale, mettere in grado l'azienda di valutare gli investimenti che si fanno, anche lavorando sugli indicatori che gli permettano io spendo tot, faccio queste scelte di formazione organizzative, otterrò questo, cioè mettere in grado, quindi su questo per esempio ancora molto poco c'è a disposizione, quindi complessivamente investire in cultura di prevenzione. Grazie.